M A N E U V E R N E R A Z U R R I L'Argentino sta iniziando a considerare le offerte che provengono da Siviglia e Premier. Il Cileno ha già le valigie pronte per ritorno a Milano in attesa dell'ufficiasi Pavard nell'Inter. Aos. Lavoriamo su quello che dovrebbe essere l'ultimo pezzo ad essere collocato in questa sessione di. Mercato. Le offerte che arrivano dalla Spagna e quelle dall'England. Attualmente più soluzioni benvenute al calciatore rispetto all'ipotesi Torino. L'uscita argentina è essenziale per chiudere un colpo che Marotta e gli aiuti hanno già nella canna. Vale a dire Alexis Sanchez. Il Cileno. Che è rimasto rilasciato dopo l'esperienza annuale a Marsiglia. Ha le valigie pronte per il ritorno a Milano a head of tener azzurri company per mettere la firma. Sul contratto. Che fornisce anche un ridimensionamento completo dell'invecchiamento percepito nelle annate. Sanchez va per i 35 anni. Ma conosce bene l'ambiente. Ha talento. Esperienza internazionale da vendere. Desideri continuare a giocare in Champions League e combattere. Per l'anno di scudetto. Obiettivi 3 assist. Confermando che la sua carriera non ha ancora preso il percorso del tramonto. Inzaghi lo vede come l'uomo ideale per completare L e garantire che bottino di reti che il tucu ha. Disposto con contagocce nelle ultime due stagioni. Resta poco più di una settimana per portare due attività nel porto. Vedi anche Intermarket. Marotta Pavard? Stiamo bene. Sanchez invece di Correa?